Lo scopo di questa giornata quindi è quello di una riflessione per acquisire, vorrei dire ecco, quello che è un compito, una missione direi, che ci compete come cristiani e come cittadini. È stato il Vescovo Franco Agostinelli l'ospite speciale del pranzo domenicale offerto ai più bisognosi dalla mensa Giorgio Lapira, in occasione della seconda giornata mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco. A Prato la ricorrenza è stata ricordata già dal giorno precedente, con la messa che il Vescovo ha celebrato in cattedrale e dalla quale hanno partecipato tutte le associazioni della consulta diocesana delle opere caritative. Siamo nati per dare appunto un piatto e l'ospitalità notturna, quindi un letto. Siamo ormai quotidianamente a servire dai 170 ai quasi 200 pasti al giorno. Si basa sul volontariato, il nostro servizio qui. Tutti siamo disponibili per certi giorni della settimana. Siamo un gruppo numeroso e contento, come dice il Papa, no? Bisogna essere gioiosi nel fare servire il nostro Signore. Ormai da oltre 30 anni la mensa ed il dormitorio, gestite dall'Associazione Lapira, svolgono un ruolo molto importante per le persone più bisognose. Nel corso dello scorso anno sono stati infatti offerti circa 50.000 pasti ed il dormitorio ha accolto circa 7.000 ospiti. Gli ultimi sono la scelta preferenziale di Gesù, ecco, e noi non possiamo altro che seguire quella strada là. È vero che il nostro scopo è quello dell'evangelizzazione e quindi annunciare il Signore, ma una persona che ha fame prima viene a dargli da mangiare, poi potremmo fare anche il resto, vale a dire annunciare il Signore. Grazie a tutti.